i limoni parafrasi e spiegazione della poesia buon ascolto ascoltami i poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dai nomi poco usati bossi ligustri o acanti qui il poeta si rivolge direttamente a noi e poi fa riferimento ai poeti laureati i poeti laureati sono quelli che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della laurea poetica come d'annunzio ad esempio a cui montale si contrappone questi poeti laureati utilizzano nel loro poetare nomi difficili elevati come bossi ligustri o acanti io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla se i poeti laureati utilizzano nomi difficili e creano ambienti molto elevati poco usati io invece amo le strade di campagna amo le strade tra l'erba e i fossi amo le pozzanghere quelle pozzanghere nelle quali i ragazzi possono anche trovare a volte qualche anguilla che è rimasta lì per caso dove i ragazzi possono quindi pescare le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti tra gli alberi dei limoni il poeta dichiara di apprezzare quelle vie lungo i ciglioni gli argini quelle vie che passano tra i canneti e portano fino agli orti dove si coltivano gli alberi dei limoni nella prima strofa il poeta innanzitutto afferma di rifiutare le poesie difficili per raccontare invece la realtà comune il paesaggio semplice colorato della sua terra quello che si accende in un giardino dei limoni qui compare per la prima volta il riferimento ai limoni dopo il titolo i limoni che rappresentano lo stato d'animo del poeta che rappresentano il messaggio che vuole comunicarci in questa composizione poetica meglio se le gazzare degli uccelli si spengono inghiotite dall'azzurro è meglio è positivo quando il rumoreggiare degli uccelli svanisce perché gli uccelli volano verso l'alto più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria che quasi non si muove è meglio perché perché in quel momento si può ascoltare allora il sussurro dei rami dell'aria che quasi non si muove non solo e i sensi di quest'odore che non sa staccarsi da terra e in quel momento si può dare ascolto anche agli altri sensi quel profumo dei limoni che è così insinuante e penetrante che ci avvolge e piove in petto una dolcezza inquieta e questo porta a far esplodere nel petto una dolcezza inquieta perché inquieta è come se questa dolcezza questa insieme di emozioni di sensazioni aprisse a qualcosa che ci lascia in attesa l'attesa introdotta dalla parola inquieta qui delle divertite passioni per miracolo tace la guerra il poeta ha conosciuto la guerra e in questo ambiente estivo rilassato profumato colorato nel divertimento nelle passioni sembra un miracolo qui la guerra tace è straordinaria questo miracolo abbiamo la dolcezza inquieta che apre a qualcosa e qui abbiamo la parola miracolo che apre un altro discorso qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza e dell'odore dei limoni quindi non solo qui tace la guerra e già questo è un miracolo ma tutti noi poveri persone comuni possiamo godere di una parte di ricchezza straordinaria che è costituita dall'odore dei limoni della fragranza dei limoni nella seconda strofa il paesaggio ligure diventa l'occasione di un'esperienza meravigliosa la calma dell'attesa meravigliosa la calma dell'estate l'azzurro del cielo il profumo dei limoni tutti questi elementi creano un'atmosfera di sospensione che sembra preannunciare un evento miracoloso quell'evento che anticipato proprio da quella dolcezza inquieta però la fragranza delle piante dei limoni sembra rassicurare l'uditore vedi in questi silenzi in cui le cose si abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto qui innanzitutto il poeta si rivolge a noi e ci dice in questa situazione di rarefazione di magica sospensione sembra che la realtà le cose siano sul punto di tradire il loro segreto quindi c'è un segreto da tradire da allora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura il punto morto del mondo l'anello che non tiene il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità cioè in questi silenzi in cui le cose si abbandonano in cui si crea una stato di magica sospensione può accadere qualcosa di strano può accadere che le cose tradiscano il loro segreto e quindi può capitare di scoprire la via d'uscita costituita da cosa da uno sbaglio di natura dal punto morto del mondo dall'anello che non tiene da quel filo che basta di sbrogliare per trovarci in mezzo a una verità in quel momento ci si può aspettare di scoprire qualcosa di inaspettato quindi il poeta in questa strofa sembra volerci dire che c'è un'altra verità un'altra realtà e qui il poeta ci apre alla dimensione immateriale spirituale al miracolo laico di cui parla e il poeta afferma con certezza che si può vedere al di là della realtà che tutti vedono che c'è un'altra realtà lo sguardo fruga intorno la mente indaga accorda disunisce nel profumo che dilaga quando il giorno più languisce ecco che in quel momento lo sguardo si attiva guarda intorno cerca di indagare accordare disunire trovare coincidenze trovare quella via d'uscita in quella situazione per cui siamo inebriati dal profumo quella situazione che può accadere di sera quando il giorno languisce quando i sensi si abbassano sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità in quell'abbassarsi di luce in quel giorno che languisce in quel silenzio ecco si può vedere la dimensione divina dell'uomo che si mostra in ogni ombra umana che si allontana si può vedere qualche disturbata divinità perché perché in quella situazione è stata evocata la parte spirituale divina magica di ogni uomo evocata dal miracolo dalla sospensione dalla magia ecco che questa terza strofa ci apre alla magia al miracolo e ci dice esiste c'è un'altra verità c'è un'altra realtà e in questa situazione emerge la dimensione divina dell'uomo ma l'illusione manca e ci riporta il tempo nelle città rumorose dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi in alto tra le cimase ma l'illusione sparita era un'illusione è stato un attimo magico ci dice il poeta no l'illusione manca il tempo ci riporta nelle realtà rumorose il tempo la realtà la quotidianità ci porta nella nostra verità nella nostra vita quotidiana dove l'azzurro è solo a pezzi su tra le case tra gli stipiti delle porte di finestre la verità è questa l'illusione è svanita torniamo alla vita quotidiana il grigiore e la pioggia stanca la terra di poi s'affolta il tedio dell'inverno sulle case la luce si fa avara amara l'anima nello svanire dell'illusione ci ritroviamo nella dura realtà la pioggia che schiaccia la terra la sfinisce sfinisce l'uomo il tedio la noia si avvolge avvolge le case la luce si abbassa si fa avara e l'anima diventa amara questa tristezza questo grigiore rende amara l'anima toglie la dolcezza non c'è più in città il nostro animo si intristisce ecco questa è la verità quando forse no forse non era questa la verità quando un giorno da un malchiuso portone tra gli alberi di una corte ci si mostrano i gialli dei limoni no un giorno un portone rimane aperto un portone malchiuso la via d'uscita ci sono alberi e in quella corte tra gli alberi ci sono i limoni e i limoni sono gialli tutto l'anno i limoni sono sulla pianta tutto l'anno e quindi in quel grigiore ci si mostrano i gialli dei limoni quindi era tutto vero quindi la verità è quella dei gialli dei limoni e il gelo del cuore si sfà e in petto ci scrosciano le loro canzoni le trombe d'oro della solarità ecco che il poeta sembra dirci no è vero l'illusione dei limoni l'illusione magica è un'illusione finta la realtà la realtà è quella del lavoro quella grigia quella della città oppure no luce o grigiore qual è la realtà il poeta ci chiede di scegliere la realtà però che lui ci mostra è questa che tra il grigiore della città esplodono le trombe d'oro della solarità e questo cosa comporta comporta che il gelo nel cuore dell'uomo si disfa e l'uomo il cuore dell'uomo viene travolto dall'entusiasmo dal colore dal profumo delle trombe d'oro della solarità questa quarta strofa ci mostra proprio il passaggio qual è l'illusione o meglio qual è l'illusione a cui noi vogliamo credere vogliamo scegliere l'illusione delle trombe d'oro della solarità o quella del grigio della città è una scelta Einstein diceva la realtà è un'illusione benché persistente e quindi tu a quale realtà vuoi credere spero che questo video ti sia piaciuto ti ringrazio per l'ascolto e ci vediamo al prossimo video